vi è un paradosso del nuovo ordine terapeutico dell'emergenza permanente sul quale è bene richiamare pur celermente a volo d'angelo l'attenzione lo stato d'emergenza finisce propriamente il 31 marzo 2022 eppure il green pass come lo chiama la lingua smart dei mercati meglio l'infame tessera verde durerà anche dopo la data ulteriore rispetto alla fine dello stato d'emergenza sicché questo è il punto sul quale richiamo l'attenzione le misure dell'emergenza durano oltre la fine dello stato d'emergenza per il quale si sono attivate questo rappresenta a tutti gli effetti un paradosso e ci segnala nemmeno troppo obliquamente che le misure d'emergenza in realtà sono sconnesse dallo stato d'emergenza anche se vengono legittimate mediante lo stato d'emergenza cosa intendo dire con ciò esattamente questo che molte delle misure che abbiamo visto attivarsi fin dal marzo 2020 nel quadro del nuovo ordine terapeuticamente corretto vennero presentate come dovute all'emergenza e legate soltanto ad essa dunque come risposte obbligate a un'emergenza obiettivamente data cosa capita però se esse misure dell'emergenza durano anche oltre l'emergenza ossia se sussistono anche quando l'emergenza non v'è più significa essenzialmente che le misure dell'emergenza divengono parti collaudate di una nuova normalità significa che le misure d'emergenza hanno una funzione sociale e politica sconnessa dall'emergenza stessa e che dunque diventa lecito immaginare che l'emergenza stessa sia stata usata come alibi per introdurre quelle misure o che comunque quelle misure attivatesi con l'emergenza appaiono particolarmente utili per l'ordine delle cose per il governo delle cose delle persone cosicché vengono mantenute anche quando di fatto l'emergenza non esiste più